Nel suggestivo scenario della costa pugliese, la misteriosa scomparsa di un celebre personaggio scuote una tranquilla comunità. Il corpo senza vita di Formigoni viene trovato su una spiaggia di Savelletri di Fasano, scatenando una serie di indagini avvolte nel mistero. Chi era veramente Formigoni? Cosa lo ha condotto a quel tragico destino? Scopri la verità nel nostro video completo.